Buongiorno a tutti i saluti della sesta ecceppa internazionale congresso di Teo che ho finito dando tre targhi nella città pubblica ucraina in Chievo. D'un giorno il comitato concetto è scegliere la nuova estrada della turmonna esperantista e ignorare organizzata con Bukashevrovsky, il polano, che è il presidente. Più ci unione della congresso è speciale interessa per i nostri esperantisti, Gio Casas e la Iago è declarata da Unesco che è il Iago dell'Unione. E alla congresso temo, dialogo che intercomprendo, noi Ionulloi certo contribuono caro della interdialoga e intergenerazia dialogo. La comitata d'U.A. trattos plurren recomendoin di Teo che utseras pli grandivi la nombron di Ionulloi di un lauco. Iam citi in Copenhago, vi posso vedi plurren Ionulloi, chiusi in la musicaio, ca evi estas ciur curi invitati alla Ionullaria programma. Trovevo in parteo cari e cari via conversali. Mi desidero ad vi buonan congresso, ca e ci sbalta. Grazie.